Ciao cari amici, come sapete negli Stati Uniti d'America già milioni di americani hanno votato in anticipo perché entrambi i candidati alla corsa presidenziale hanno invitato i loro elettori di non sprecare tempo e votare in anticipo e quindi ci sono già diverse informazioni riguardo all'attività molto alta di statunitensi a queste elezioni ci sono già notizie su preoccupazioni attorno a queste elezioni perché a quanto pare si rischia per davvero che la situazione può sfuggire di mano, diverse riviste statunitense anche molto importanti, diversi analisti stanno seriamente parlando di un rischio se non di una guerra civile vera e propria come minimo dei disordini noi abbiamo visto tantissimi disordini già accadere negli Stati Uniti d'America nel passato e quindi adesso una delle preoccupazioni che anche adesso queste elezioni possono suscitare dei disordini voi sapete è molto pericoloso negli Stati Uniti un confronto tra i cittadini perché come anche ha dimostrato il recente episodio di disordine durante manifestazioni di Black Lives Matter ci sono alcuni americani che non vogliono assolutamente accettare di essere coinvolti in una certa aria diciamo di protesta, non vogliono essere toccati dalle proteste hanno cercato di allontanare i protestanti dalle proprie case, dalle proprie zone anche utilizzando le armi da fuoco ci sono tantissime immagini di americani armati fino ai denti, civili per strade delle loro città a fare pattugliamenti, a fare una specie di risposta armata a quelle che erano all'epoca le manifestazioni questo era solo un indicatore adesso si preoccupano che questa situazione può realmente trasformarsi in uno scontro a fuoco uno scontro armato tra due fazioni dei civili che sostengono due candidati momento storico molto grave, l'impero statunitense sta subendo colpi veramente gravi da parte della geopolitica e ovviamente molto dipende da come nei prossimi anni il Washington, la Casa Bianca faranno impostare la politica interna e anche estera delle Stati Uniti d'America ovviamente le opinioni sono diverse, i cittadini sono divisi in due fazioni e questo aumenta e accelera questo rischio di scontri ieri è stato comunicato che negli Stati più problematici ci sono stati già attivati i meccanismi di difesa militare quindi sono stati portati in strada i militari della Guardia Nazionale ci sono stati attivati le forze speciali perché realmente stanno avendo paura di scontri dopo che saranno divulgati i primi risultati elettorali perché ovviamente come sapete i seguaci di Trump loro si sentono presi in giro loro dicono che i democratici possono truffare le elezioni in effetti i democratici più di una volta hanno dimostrato non solo negli Stati Uniti d'America ma anche oltre di riuscire sempre a entrare anche in modo poco onesto nella strumentalizzazione con le elezioni a parte che utilizzano i meccanismi poco onesti durante i programmi elettorali voi avete visto negli Stati Uniti d'America tre volte hanno tentato di uccidere Trump adesso si può pensare bene, si può pensare male di Trump io non sto qua a trasformare Trump in un messia o qualcosa del genere però si tratta sempre di una persona che sta cercando di diventare presidente degli Stati Uniti seguendo quelle che sono le regole democratiche e non avendo contro di lui nessun potere, nessuna possibilità di toglierlo dalla corsa i suoi rivali cercano di ucciderlo altro che complotti, in mezzo c'è metà della CIA e metà dell'FBI sta dalla parte dei democratici contro Trump cioè le sue stesse guardie del corpo, le persone che dovevano proteggerlo non hanno fatto abbastanza per salvarlo dal colpo del cecchino è stato salvato solo per miracolo, le ha sparato, le ha preso l'orecchio solo un movimento di testa spontaneo di Trump ha riuscito a salvarlo dalla morte quindi siamo di fronte veramente di un momento straordinario nella storia elettorale delle Stati Uniti d'America immaginate come sono tese adesso lì le relazioni tra le persone come è tesa la situazione attorno a propaganda elettorale ogni giornale sempre cerca di accusare i rivali politici di qualcosa di brutto qualcosa di abominevole c'è una marea di fango che si butta da una parte e dall'altra ieri abbiamo visto come Trump durante un comizio ha imitato fisicamente ha fatto un'imitazione di quello che Kamala Harris farà quando arriverà a Casa Bianca e in pratica ha fatto imitazione di un filazio quindi immaginate il livello come si sta precipitando come si sta anche abbassando il livello di colpi che i candidati si sfierano uno contro l'altro allo stesso tempo Kamala Harris ha offeso Trump ha detto che lui nella sua abitudine usare le donne come oggetti e così via quindi siamo di fronte a una situazione molto tesa nelle Stati Uniti d'America questa è la realtà e ovviamente attorno alle elezioni statunitensi c'è una molta attenzione anche da parte dell'estero Stati Uniti d'America è un impero, ripeto ad esempio noi in Italia facciamo parte dei sudditi di questo impero anche se molti italiani ancora oggi continuano a non capirlo e quasi cercano di convincere se stessi che Stati Uniti d'America in realtà è il partner dell'Italia è una specie di amicizia tra Stati Uniti d'America e l'Italia beh amici, nell'amicizia non si usa piazzare le basi militari sul territorio del tuo paese amico di solito si fanno accordi militari ma non si controlla tramite il sistema militare, il sistema di guerra non si controlla la situazione nel paese del tuo amico ciò che noi sappiamo è che l'Italia secondo tutti i criteri è un suddito degli Stati Uniti d'America insieme con l'Italia tutti i paesi dell'Unione Europea tutti quelli che fanno parte della Nato in qualche senso quasi tutti e ovviamente i paesi che rappresentano per gli Stati Uniti d'America una specie di macrozone come ad esempio Giappone Giappone è un suddito degli Stati Uniti d'America è un'importante macrozona nel settore dove gli Stati Uniti d'America devono essere presenti per mantenere lì il loro dominio e per questo motivo nel mondo cresce un'attenzione verso le elezioni si parla di questo, si dedicano le trasmissioni, giornalisti ovviamente in Italia noi abbiamo giornalisti per la gran parte schierati completamente con Partito Democratico perché sono pagati dagli oligarchi anglosassoni la gran parte degli oligarchi anglosassoni la totale maggioranza di quelli che oggi si trovano al potere guadagnano soldi con la guerra sono pro-democratici contro Trump e ovviamente per loro sarebbe meglio continuare con Kamala Harris e con Biden perché sono più gestibili mentre Trump rappresenta quella parte dell'elite statunitensi ai quali bisognerà in qualche modo dare qualcosa per accontentarli e per questo motivo gli oligarchi preferiscono convincere tutti i sudditi che è meglio che arrivano al potere i democratici per questo motivo anche da noi in Italia la gran parte del mainstream ufficiale italiano sostiene Kamala Harris, sostiene Biden e si accanisce contro Trump comunque è molto interessante come questa situazione viene vista invece da altri paesi perché noi viviamo catapultati in questo mondo gestito da impero statunitense e pensiamo che tutto il mondo vive come noi in realtà non è così la Russia, Arabia Saudita, India, Cina, Pakistan stesso oppure Iran e altri paesi che hanno una loro via di sviluppo una loro via di sviluppo loro sicuramente seguono le elezioni statunitensi come un importante momento politico però hanno una loro visione su ciò che sta accadendo e la visione occidentale e la visione dei paesi che fanno parte del mondo multipolare divergono molto i russi, le opinioni dei russi nei confronti delle elezioni statunitensi sicuramente sono molto diversi alle opinioni degli italiani o di tedeschi e questo è chiaro comunque in differenza di quello che si pensa in molti paesi non credono che con cambio di presidenti negli Stati Uniti d'America accadrà un importante, grande, radicale cambiamento quello che a noi ci vogliono spacciare i nostri vari propagandisti tramite i programmi televisivi, giornali, approfondimenti divulgazioni anche online dicendo che se arriva Trump cambierà radicalmente la politica nel bene o nel male se invece rimarrà Kamala Harris la politica migliorerà ancora di più queste cose ci dicono a noi che siamo sudditi degli americani ma ci sono i paesi dove c'è una visione reale su ciò che sta accadendo e a noi non permettono di leggere giornali di questi paesi non permettono di approfondire notizie infatti proprio per questo ad esempio in Unione Europea è vietato qualsiasi mezzo di informazione russo hanno chiuso Sputnik, hanno chiuso RT24 hanno chiuso tutti i canali che comunicavano in lingua inglese oppure nelle lingue locali in vari paesi in Germania, in Francia anche in Italia sono stati chiusi, censurati diversi canali televisivi russi io quando abitavo in Italia avevo, diciamo, a casa mia sulla mia televisione c'erano più di 300 canali russi televisivi li guardavo e mi informavo attraverso diversi canali c'era anche un diretto canale nel quale 24 ore su 24 raccontavano solo e soltanto dell'interna politica russa molto interessante tutto è stato vietato tutto è stato censurato hanno censurato pure i canali con i cartoni animati e ovviamente ci tengono in questa bolla di propaganda filo-atlantista propaganda anglosassone e noi non sappiamo cosa in realtà pensano e dicono gli altri paesi e dicono e pensano le cose interessanti così ad esempio sulle aspettative dalle elezioni statunitensi recentemente ha parlato molto chiaramente l'ex presidente della federazione russa Dmitry Medvedev adesso come sapete Dmitry Medvedev è vice segretario del Consiglio di Sicurezza di Stato Russo lui sicuramente uno dei falchi fa parte del partito di Putin però in differenza stesso Putin Medvedev non assume le posizioni molto morbide Medvedev secondo me se oggi si trovava nella poltrona del Presidente il mondo veramente avrebbe rischiato un paio di volte l'apocalisse nucleare perché in differenza di Putin Medvedev è più propenso a risposte dure un po' meno paziente di Putin sicuramente Medvedev non ha tutta questa esperienza nella politica estera che ha Putin e per questo motivo è un po' più caldo un po' più sanguigno quando affronta certe certe questioni e lui ha fatto questo approfondimento molto interessante ai giornalisti dove lui ha parlato di quello che sta succedendo lui ha detto il mondo è congelato in pose imbarazzanti alla vigilia delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'oltremare lui li chiama noi non abbiamo motivo di avere grandi aspettative e lui ha spiegato in cinque punti ha spiegato perché i russi non hanno nessun motivo di aspettare qualcosa di positivo da elezioni statunitensi cioè lui ha fatto capire che in grande linee per la Russia il rapporto con gli Stati Uniti d'America la situazione internazionale non cambierà dopo le elezioni indipendentemente dalla vittoria di uno o dell'altro candidato e lui ha stipulato questa sua formula come ho già detto in cinque punti adesso vi leggo questi punti giusto per farvi capire il senso di tutto quello che ha detto Medvedev punto numero uno per la Russia le elezioni non cambieranno nulla poiché le posizioni dei candidati riflettono pienamente il consenso bipartisan sulla necessità che il nostro paese venga sconfitto cioè qua è molto chiaro Medvedev dice chiaramente sia un candidato e l'altro rappresentano comunque un paese che dal punto di vista geopolitico ha bisogno di sconfiggere la Russia in un modo o nell'altro quindi per i russi non cambia niente punto numero due Kamala Harris è stupida inesperta controllata e avrà paura di tutti quelli che la circondano a governare sarà un gruppo composto dai più importanti ministri e aiutanti più indirettamente dalla famiglia di Obama questo cari amici ormai lo sanno tanti anche molte persone che si occupano di controinformazione nell'Occidente sanno benissimo che dietro a Kamala Harris sta Barack Obama la famiglia di Obama e stanno tutti i rappresentanti del potere che negli anni in cui Obama era il presidente degli Stati Uniti d'America sono riusciti ad arrivare a ricoprire i ruoli molto importanti nel governo statunitense nella politica statunitense nell'economia statunitense e quindi proprio questi personaggi per conto dell'alta oligarchia dell'alta finanza guideranno Stati Uniti d'America nel caso si arriverà al potere Kamala Harris lei sarà una specie di Zelensky delle Stati Uniti d'America un idiota che sorride che dice quello che li scrivono quando riesce a leggere perché ha dimostrato anche durante queste lezioni di non essere capace neanche a leggere a stipulare un pensiero senza aiuto del gobbo quando un paio di volte è già successo che si è rotto il gobbo o andato in tilt lei è rimasta lì a bocca aperta a guardare spaventata questa mare di gente davanti a cui si trovava e non riusciva a capire niente sorrideva e basta questo ovviamente il livello di imbecillità è altissimo e qua stiamo parlando semplicemente di una figura fitizia che rappresenterà Stati Uniti solo de facto e numero tre il terzo punto di Medvedev è dedicato a Trump lui dice Trump è stanco che sputa banalità come offrirò un accordo oppure ho un ottimo rapporto con un certo politico sarà costretto a rispettare tutte le regole del sistema non può fermare la guerra né in un giorno né in tre giorni né in tre mesi e così via e se ci proverà davvero di bloccare i progetti del sistema del potere che sta sopra di lui potrebbe veramente diventare un nuovo Kennedy quindi Medvedev fa capire che se Trump arriverà al potere inizierà realmente muovere la politica degli Stati Uniti d'America per allontanarla dalla guerra questo immediatamente sarà la morte fisica e politica di Trump ed è chiaro perché il potere attualmente degli Stati Uniti d'America dipende solo e soltanto dalla guerra senza guerra loro sono persi non ce la fanno loro hanno bisogno di questo conflitto il numero 4 la tese numero 4 solo una cosa conta quanti soldi guadagnerà il nuovo sistema per la guerra lontana di qualcun altro la guerra di procura per il loro complesso militare industriale e per essere stati tagliati dai lui io vi dico come ha detto Medvedev e poi vi spiego cosa ha inteso lui ha detto per essere stati tagliati dal bastardo di Bandera cioè lui intende il regime di Kiev in pratica perché Bandera voi sapete il storico fondatore di una un so UPA organizzazioni dei nazisti ucraini quindi qua lui spiega che nelle elezioni conta solo una cosa quanti soldi riuscirà a portare il nuovo presidente nella guerra quanti soldi riuscirà a destinare alla guerra il complesso militare industriale statunitense ha bisogno di continuare a essere attaccato al sistema del regime di Kiev per poterlo fornire solo così riuscirà a giustificare enormi spese quindi la guerra è una grande scusa per continuare a derubare cittadini statunitensi per portare i soldi dalle loro tasche e anche dalle tasche di paesi sudditi delle Stati Uniti d'America per giustificare questa grande guerra esistenziale che deve essere fatta contro cattivo Putin contro i migliaia di nordcoreani inventeranno altre balle inventeranno anche che Putin si è messo d'accordo con i marziani e quindi siccome pianeta Marta è il rosso questi sono comunisti allora arriveranno a aiutare a Putin quindi dobbiamo difenderci tutti dobbiamo spendere miliardi per dei nuovi sistemi anti-marziani questi inventeranno qualsiasi cosa pur di continuare a rubare i soldi dalle tasche dei cittadini e investirle nell'impianto bellico industriale il punto quinto e l'ultimo punto che ha condiviso Medvedev e suona così pertanto il modo migliore per rendere piacevole il 5 novembre i candidati alla più alta carica statunitense è continuare a distruggere il regime nazista di Kiev quindi in questo senso Medvedev dice a noi russi per noi non ha importanza chi vincerà noi di queste cose non dobbiamo neanche pensare per noi unica cosa adesso importante è continuare a vincere la guerra massacrare gli ucronazisti portare avanti tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale e cercare nel suo complesso di vincere questa guerra perché si tratta di una grande guerra contro l'occidente collettivo sul territorio dell'Ucraina questo lo sanno tutti questo capiscono tutti e Medvedev spiega a chi lo segue che alla fine perdere tempo con fantasia attorno alle elezioni statunitense non serve bisogna concentrarsi sugli obiettivi concreti ovvero la distruzione del regime ucronazista questo in grande linea cari amici quello che si dice in Russia riguardo alle elezioni statunitense un po' Medvedev reassume bisogna dire quello che è quello che è il pensiero della gran parte dei russi anche vari analisti esperti tutti quanti alla fine dicono sì e ovviamente se vince Trump o vince Harris cambieranno alcune cose all'interno degli Stati Uniti ma per noi per i russi non cambierà un granché perché comunque è chiaro che il sistema statunitense ha bisogno di questa guerra Trump non riuscirà a fermarla quindi inutile che noi sprechiamo tempo sprechiamo le nostre forze a seguire questa facenda dobbiamo continuare a concentrarci su cose più essenziali ovvero sulla vittoria nella guerra contro gli ucronazisti questa in grande linea cari amici è ciò che si dice in Russia delle elezioni statunitensi che stanno per arrivare io come sempre alla fine dei miei video vi invito di informarvi in maniera obiettiva su ciò che succede in Ucraina anche in generale nella geopolitica nel mondo sul mio canale privato Telegram io condivido tutte le notizie che di solito vengono nascoste censurate oppure strumentalizzate del nostro mainstreamo occidentale corrotto il link per abbonamento al mio canale privato Telegram si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su YouTube come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su queste piattaforme online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene grazie a tutti